Sotto la cattedrale di Nola, una domus romana, sede di un culto cristiano, una scoperta straordinaria che sarà presentata domani ufficialmente. Ne parliamo con il vicario della diocesi, Monsignor Pasquale Donofrio. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Perché questa scoperta rende speciale la storia della nascita della cattedrale di Nola? Per due ragioni, perché si è sempre pensato che la cattedrale potesse nascere su un'antica pertinenza che era quella invece del Tempio di Giove. Invece ci siamo trovati di fronte a questa scoperta piacevolissima, siamo davanti ad una domus che potrebbe pensarsi essere una prima manifestazione di domus ecclesia, cioè di una domus, di una casa, il cui culto è stato mantenuto all'interno di una struttura, potremmo dire, che parte come struttura privata e che ci dice che il culto a Nola del protovescovo è in quella zona dato per prima come datazione intorno alla fine del primo secolo, prima metà del secondo. Il culto di San Felice è legato anche al fenomeno della manna, parliamone al nostro pubblico regionale. Sì, è un fenomeno abbastanza particolare in alcuni momenti particolari dell'anno. Sul muro dove appunto si ritiene da sempre che sia il luogo della sepoltura dei resti di Felice, del protovescovo Nolano, c'era questa manifestazione attraverso una cannula di argento, c'era una sostanza che in alcune festività appariva ed era il segnale della benedizione sul santo, sulla città e sul territorio. Domani la presentazione di questa grande scoperta archeologica, a quando l'apertura al pubblico? Allora domani la presentazione agli studiosi e al pubblico dei risultati di questa indagine, che ha visto la collaborazione di tanti professori e delle amministrazioni presenti, in primis la sovrintendenza archeologica. Al pubblico quanto prima saremo in grado di allestire la cripta per poter farle soffrire a tutto quanto il pubblico. Grazie Monsignor Donofrio. Allora, grazie. Andiamo avanti.